Oh, questo telecomando è davvero impossibile da decifrare! Non voglio che il mostro balli il Boogie Boogie! Voglio solo che cammini fino a Foggy Bottom! Oh, oh, oh! Eccoli che arrivano! Quel gigantosauro e gigantesco finirà per distruggere qualcosa! Oh, smettila di ballare! Meglio stare indietro, sindaco Godway! Sembra che il gigantosauro stia per lanciare un'altra palla di fuoco! Io ho sentito urlare, che cosa c'è? Oh, la lucertola gigante! Oh, cielo! Cicaletto! Cotte alla perfezione! Sky, prova a rintracciare il gigantosauro! Alice! Ryder, ho trovato il gigantosauro! Dov'è? Vicino al quartier generale! Oh, patrol, al quartier generale! Presto! Adesso salviamo Cicaletta! Parabrezza! Giù! Stai buona, Cicaletta! Presto, Marshall! Sta per far fuoco! Cicaletta, salta su! C'è? Oh! Caspita! Punta verso di noi! Pronti, cuccioli! Sta per... Dubbi pronti! Acqua fuori! Ora! Più a sinistra! A sinistra! Così! Resta così! Marshall, cuccioli! Abbiamo fermato il robot! Sì! Sì! Po-patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Con l'equipaggiamento da muratori! Grazie per essere già pronti, cuccioli! Qualcuno ha distrutto la casa di Zio Otis! Povero Zio Otis! Ma dobbiamo metterci al lavoro tutti quanti per ricostruire la casa di Zio Otis! È per questo che ci occorre... Una squadra di costruzione estrema! C'è bisogno di un esperto di costruzioni che coordini una squadra! E quell'esperto è... Rubble! Con il suo veicolo da costruzioni estreme! Rubble come un razzo estremo! Al lavoro, Po-patrol! Rubble! Oh, la tua casa! Ero uscito solo un attimo per portare uno spuntino di mezzanotte al mio amico Castoro e... Bam! Non è un lavoro da poco, Zio Otis, ma la squadra di costruzioni estreme è pronta a darsi da fare! Forza, cuccioli! Datemi una zappa! Non così intendevo con le bacerie! Marshal, usa lo schiacciasassi per appiattire il terreno! Zuma, usa la mini-trivella per scavare le fondamenta! Usa l'argano per tirare su le pareti! Woo! Argano! Argano! Ben fatto, squadra di costruzione! Incredibile! Questa sì che è una casa fatta come si deve! Questa bici è un vero portento! Vroom! 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 Sarà meglio chiamare la Poopatrol! Vi assicuro che andrà tutto bene, mini-patrol! Almeno spero! Tenetevi forte! Danny Hicks, il temerario, alla riscossa! Attento, Danny! Fai tranquillo! Sono Danny Hicks, il temerario! Non intendevo questo! Oh! E nemmeno questo! Chase! Ferma il carretto con la rete! Woo! Rete! Attimo lavoro, Chase! Ora fermiamo Alex! Chiamo altri aiuti! Zuma, devi portare il tuo Overcraft in fondo alla discesa! In fretta! Ricevuto forte e chiaro, Ryder! Oh-oh! Il mare! Ci finirà dentro! Niente paura, piccolino! Me ne occupo io! È un vero... Spasso! Che forte! Grazie dell'aiuto, Ryder! Non c'è di che, Alex! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Ciao, Everest! Come andiamo? Ryder! Marjorie e Maynard sono intrappolati nella biblioteca mobile e scendono fuori controllo lungo la montagna! Stiamo arrivando! Nessun veicolo è troppo veloce per un cucciolo coraggioso! Chase! Sorpassa quel veicolo e libera la strada! Ci è mancato poco! Ciao, Ryder! È un vero piacere vederti! Anche per me! Va lì vicino e poi lancia il rampino! Rampino! Sky, ora tocca a te! Qualcuno sta preparando il tè! Che succede? Ci stiamo muovendo! Signorina Marjorie! Si infili l'imbracatura! Maynard! Penseremo noi a Maynard e ai libri! Grazie, Ryder! Oh no! Io chiederò altro aiuto! Rocky! Rubble! Ci vediamo alla fine della strada! Ricevuto! Ryder! C'è un treno in arrivo! Sky! Usa il tuo gancio per rallentare il mezzo! Presa! Autopilata! Ciao Maynard! Allacciamo le cinture! I freni non funzionano! Ora provo con il freno a mano! Questa non ci voleva! Rocky! Rubble! Mi serve una rampa! Ehi! Scommetto che quelle travi potrebbero funzionare! Presto! Il treno è quasi arrivato! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, le abbiamo trovate! Guardate quante ossa d'oro! E sono tutte mie! Cicaletta! Vengo a prenderti, piccolina! Oh, ma ciao, Cicaletta! Cosa? Ryder, il municipio sta sprofondando! Cosa? Il GPS dice che siamo quasi sotto il municipio! Scopriamo che succede! Forza, Gazzini! Più in fretta! Questo sembra... Il sindaco Hamming! Fermo! Voi volete le ossa d'oro solo per voi! Ma sono tutte mie! Ho tutta potenza! Dobbiamo sollevare il municipio! Siamo qui per aiutarti, Rocky! Ci siamo anche noi! Ottimo! Mi servono tutte le travi che trovate! Semaforo verde, andiamo! E... fatto! Il municipio sta per sprofondare! State tranquilli! Devo solo dargli una spintarella! Con questo sollevatore creato a riciclarte! Attanto, Rocky! Si! È prima! Ah! Oh! Ah! 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 State tutte bene? Cos'è questo rumore? Lo stagno! Si sta prosciugando! Meglio chiamare la Pou Patrol! Cos'è questo rumore? Guardate! L'acqua deve essere scesa da questo scarico! Ci serve qualcosa di piccolo per dare un'occhiata più da vicino! Chase, serve il tuo drone da spia! Drone! Bene! Adesso vediamo dove va! Ehi! Questo tubo finisce in un tunnel! Fino a che distanza può arrivare il drone? Fino a lì! Il drone deve aver colpito qualcosa che blocca il tunnel! Credi che potrebbe aver fermato anche l'acqua? Forse! Ma dovremmo andare a vedere di persona! Zuma, facciamo un giretto nel tunnel! Forte! Se togliamo qualcuna di queste assi, l'acqua ricomincerà a scorrere! E lo stagno delle paperelle si riempirà di nuovo! Buona idea, Ryder! Piano Zuma, l'acqua non deve arrivare tutta quanta insieme! Perfetto! Ora andiamo via prima che il tunnel si allaghi! Non preoccupatevi piccoline, Ryder vi riempirà lo stagno! Benvenuti alla gara di Windsurf di Adventure Bay! Il vincitore riceverà questo premio favoloso! Ai posti, pronti, via! Si è alzato il vento! Forse anche un po' troppo! Attenzione! Grandioso! Adesso sì che si ragiona! Tieniti forte, Cicalibra! Fate largo! Sì! Questo strano vento fortissimo è apparso dal nulla! Che cosa sta succedendo laggiù? Dobbiamo aiutarli! Nessun vento è troppo forte per un cucciolo coraggioso! Zuma! Quanto sono felice di vederti! Ciao, Katie! Resisti ancora un po'! Ti fermo io! Salvaggente! Grazie, Zuma! Poopo Troll! Grazie al cielo, siete qui! Salve, Sindaco Goodway! Sì, l'aiutiamo noi! Si tenga forte, Sindaco Goodway! Raga e Rocky! Grazie per aver salvato me e la mia piccola gollinella! Guardate qua! Sto surfando su un tetto! Forte! Piano! Piano! Ora! Oh no! Preso! Forte! Gran bel bollo, Sky! Però questo è il vento più vivace che abbia mai sentito! Mi chiedo da dove provenga! Salve, Sindaco! Roder, emergenza! Emergenza! La statua di Cicaletta è scomporsa! La Poo Patrolla arriva immediatamente! Potrebbe aiutarci a sapere in quale direzione sono andati i ladri della statua? Chase, prova a scoprire qualcosa usando i tuoi occhiali termici! Rider, impronte! Finiscono vicino al tombino! Chase, manda giù un drone per vedere se trova qualcosa nel sistema fognario! Lancio! Ecco la statua! Sì! Ma perché si muove? Il Sindaco Hamdinger, dovevo immaginarlo! Non ricordo di aver invitato la Poo Patrolla all'inaugurazione della mia statua! Il Sindaco Hamdinger deve aver rotto la videocamera del drone! Beh, allora dobbiamo seguirlo in un'altra maniera! Che succede, Rider? Il Sindaco Hamdinger ha rubato la statua di Cicaletta e cerca di fuggire attraverso le gallerie sotto Adventure Bay! Prendi l'Overcraft e vediamoci al canale! Rider, guarda! Che è l'ora del bagno! Aspetta! La corrente è troppo forte! Ci porterebbe via e ci trascinerebbe fino alla baia! Questa galleria ci porterà direttamente a Foggy Bottom! Cosa? Un alligatore! Marcia indietro, gattini! No! No! Chase! Sky! Dovete prepararvi a fare una bella presa! Ma bandolare il trasportino! No! Rete! Questo è davvero imbarazzante! Attima lavoro, Pou Patrol! Pulisca bene dietro le ali! Per colpa sua sono sporchissime! Sono pronti i tuoi sottaceti frizzanti, nonno! Questa partita è davvero molto frizzante, eh? Richiamoli! Aspetta! Le manca ancora uno! Attento con quel barattolo! Se lo agiti troppo, il gas potrebbe farlo esplodere come una bottiglia di soda! Su questa strada si balla! Che cos'è questo rumore? Forse erano un po' troppo frizzanti! Aiuto! Signor Porter, sta bene? Io sto bene, ma temo che il furgone sia incastrato! Ci pensiamo noi! Chase, ci serve il tuo argano! Ci pensa Chase! Dov'è il furgone del signor Porter? È caduto al lato della strada ed è rimasto bloccato! Wow! Argano! Sono giù, Ryder! Sky, cala l'imbracatura per il signor Porter! Imbracatura! Si regga forte! Ryder, come rimorchiamo il furgone del signor Porter? Se solo ci fosse il modo di farlo saltare fino alla strada! Ottima idea! Ha bisogno dei sottaceti frizzanti! Rocky, sono rimasti dei barattoli chiusi! Sì, ne è rimasto uno! Agitalo e mettilo sotto il furgone! Barattolo in posizione! Sto tornando su! Doc, Doc! Chi è? Correte! Correte? Correte perché qui si mette male! Sta per esplodere! Gente, state indietro! È vero! Tanto tempo fa, quando c'era la luna piena, le persone dovevano fare attenzione quando uscivano di casa perché era lì che un essere furtivo, impietante e ululante faceva la sua comparsa! Lo chiamavano il selvaggio Cucciolo Mannaro! Guarda! Siamo a foro verde per dormire! Wow, sto correndo velocissimo! Come vorrei che i miei amici mi vedessero! Oh, ma poi li spaventerei! Oh, c'è puzza di puzzola! È la prima volta che è una puzzola ad avere paura di me! Ehi, aspetta! Non avere paura! Wow, posso saltare lontanissimo! Essere un Cucciolo Mannaro è divertente! C'è qualcuno lì? Vai via, orso! Sono io, Rocky! Il Cucciolo Mannaro! Cucciolo Mannaro! Sembra che qualcuno qui abbia fatto un bel sogno! Quello che è certo è che ha spaventato l'orso e salvato i nostri Marshmallow! Grazie! È vero! Beh, in ogni occasione noi siamo a disposizione! Po-Po-Po-Po-Po-Trol! Po-Po-Po-Trol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per essere qui, cuccioli! Il signor Porter ha avuto un cliente inaspettato stamattina! Forse trattandosi di un orso voleva dargli un morso! Ma ora dobbiamo riportare mamma orsa nel bosco! Ehi! Sembra uno dei micetti del sindaco Handinger! Credo che voglia che lo seguiamo! Ma dov'è il sindaco Handinger? Potrebbe essere nei guai! Rocky, vieni con me! Accidenti! E va bene! Piano! Ti prego, fa piano! Sindaco Handinger, resti calmo e non tenti di fuggire! Oppure l'orso la... Ti seguirà? Lo so, ci ho già provato! Sky, ci servi tu! Questo cucciolo ha imparato a volare! Rider, sono quasi arrivata! Bene! Aspetti un attimo! Ancora un po'? Adesso! Preso! Bene, Rocky! Ci serve quella torta! Hai qualche aggeggio per farla volare? Sapevo che mi sarebbe tornato utile! Guardate, orsi! Una torta volante! Un dessert al volo! Questo vi riporterà a casa! Vi ringrazio per avermi salvato! Nessun problema, sindaco Handinger! In ogni occasione noi siamo a disposizione! State andando bene, cuccioli! Trasformerete questo prato vuoto in un luogo piacevole! Magari in un parco giochi! Fa arte! Questo uccellino si è già trasferito qui! Signorina Marjorie, come va? Sono apparse dozzine di buche nel mio giardino, Rider! Non si può camminare senza finirci dentro! Ed è esattamente ciò che è successo a me e a Maynard! Stiamo arrivando, signorina Marjorie! Ma che immenso piacere avervi qui! Dov'è Maynard? È accanto a quell'albero! L'albero cadrà intrappolando Maynard! Rocky, tiriamolo fuori! Ti serve una zampa o una pinza? Si aggrappia il mio overball! Sto una favola! Yahoo! Sky, cala l'imbracatura a Rubble! Ricevuto, Rider! Tutto bene laggiù, Rubble? Io sono a posto! Mi preoccupa la casa della signorina Marjorie! Si regge soltanto su una colonnina di terra! Ma, Rider, io come faccio a vivere in una casa così barcollante? La sposteremo! Ehm, dove? Nel posto perfetto! Il campo che stavamo ripulendo! Oh, mi sembra una bella idea! Procedi pure, Robocucciolo! Robocucciolo, ci muoviamo! Piano, piano, con calma! Portala giù, Robocucciolo! Ce l'avete fatta, cuccioli! Ce l'avete fatta! Fate un bel applauso alla squadra di salvataggio dei gattini! In qualunque occasione, noi offriamo cooperazione! Quei gattini verboni! Beh, fa sempre comodo una mano ad Adventure Bay! Non ti preoccupare, Chase! La Paw Patrol sarà sempre al primo posto in questa città! Non se i miei gattini continueranno a rubarle il lavoro! Grazie, Raider! Continuano a cadere dei pezzi di cibo vicino ai tavoli! Raider, c'è un gattino sul tetto che lancia avanzi di cibo! Ma è impossibile che sia un gattino! Lo sapevo! Sindaco Hamdinger, ha organizzato lei quei finti salvataggi, non è vero? Gattini, andiamocene! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Non vedo niente! Quegli stupidi gabbiani! Sindaco Hamdinger, va tutto bene? Aiutatemi, gattini! Ho bisogno di essere salvato! Aiuto! Non credo che possano aiutarla ora! Sky, abbiamo bisogno di te! Adesso! Ci penso io! Grazie, Poppatrol, per aver salvato me e la squadra dei gattini! Non c'è di che, Sindaco Hamdinger! In ogni occasione, noi offriamo cooperazione! Oppure, se preferisce, siamo a disposizione! Questo è molto divertente! Capitan Turbot, come procede la visita di Nonna Tilly? Non bene, Ryder, un diabolico delfino lo sta portando a largo! Wow, sta andando parecchio a largo! Non si preoccupi, nessun delfino è troppo veloce per un cucciolo coraggioso! Io-ho-ho! Delfino! Tu non vuoi affatto riportarmi sulla Flander, dico bene? Stia tranquilla, Nonna Tilly! Siamo venuti a salvarla! Beh, siete veramente molto gentili! Chase! Zuma! Andate! Dove sarà finito quel delfino? Ciao, cuccioli! Eccolo, amico! Bene, signor delfino, è ora di tornare! Nonna Tilly sta per scivolare! Chase, è tempo di usare l'esca! Signor sì! Uh! Spara palle! Merenda in arrivo! Bel lancio, Chase! Adesso, Zuma, seguili in caso Nonna Tilly dovesse cadere! Subito! Oh! 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 Prima sopra un delfino e ora su un sottomarino! Sentite come fischia il vento! Sono felice di dormire dentro stanotte! Salve, signor Alla! Ryder, ho un problema con un porcellino! I duoni hanno spaventato Corny ed è scappato! L'aiuteremo a trovarlo! Corny! 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 Eccolo là, Ryder! Vedo Corny nel canyon! Andiamo! Ecco dov'era! Rimarrà nei paraggi se vi serve aiuto! Chase, dobbiamo calarci! Ventose! Va tutto bene, Corny! Va tutto bene, Corny! Sarai in salvo in un batter di coda arricciata! Bene! Ora andiamo a casa! Oh! Corny ha troppa paura per venire! Sky! Cala l'imbracatura! Presa! Tranquillo, Corny! Ti aiuteremo a tornare dal signor All! Tiralo su, Sky! Si parte, maialino! Ryder! Quei fulmini sono proprio sopra Adventure Bay! Sky! Non voglio che voli vicino al temporale! Gira intorno alle montagne sopra la baia! Allora, Corny! Faremo un giro un po' più lungo, ma ti riporterò a casa! Qui! 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 Di Corny! Se solo vedessi la fattoria! Fantastica! Sulla testa! Quelle sono mucche? Già! Ti indicano la via! Oh! Ecco finalmente il mio Corny! Oh! È bello riaverti qui! Grazie per avermi riportato, Corny! Grazie a tutti voi! Nessun problema, signor All! In ogni occasione noi siamo... a disposizione! Imposto per la pizza in arrivo! Pizza stesa pronta da condire! Prima mettiamo del sugo! E anche tanto formaggio grattugiato! Pronta per essere infornata? Fate largo alla pizza calda! Senti che odorino pizzelizioso! Quanto vorrei mangiarne una fetta! Non possiamo ancora mangiare la pizza! Dobbiamo fare la torre di pizza più alta del mondo! Così entreremo nel libro dei primati! Vede? Una torre di pizza! Sarò io a vincere il trofeo! Giusto, gattini? Sono così emozionata! Il giudice arriverà qui a momenti e rimarrà impressionato dalla nostra torre di pizza! Qualcuno ha forse detto pizza? Stavate parlando della torre di pizza più alta e spettacolare del mondo, se non sbaglio! Pensavo che avremmo stabilito il record e vinto il trofeo! E così sarà! Il record apparterrà ad Adventure Bay! Non ci conti, sindaco Goodway, perché Foggy Bottom ha intenzione di vincere! Attenzione, gente! Fate largo alla torre di pizza di Adventure Bay! Oh, sono bloccato! Ma ora mi sto muovendo! Aiuto! Ryder, ti prego, aiuta il giudice! Non mi piace così! Qualcuno mi aiuti! Sky, usa l'imbracatura e porta il giudice al sicuro! Ricevuto, Ryder! Questo salvataggio batte proprio tutti i record! Ah, ecco fatto! E la vostra è la torre di pizza più alta del mondo! Sì! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon!